Ciao ragazze, nuovo video out there, buh buh giù, ho sbagliato già, ricominciamo. Ciao ragazze, nuovo video all, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto ieri che era sabato e sono stata a Brescia, ho fatto un giro al mercato e poi sono stata da Primark e da Pull&Bear e ho fatto degli acquistini lì, al mercato ovviamente dal mio Vincenzo, in un altro banchetto e poi ho preso dei magliorini all'usato, però non ve li farò vedere a questo giro perché li devo un attimino selezionare, quindi per il momento non ve li faccio vedere quando ho selezionato cosa tenere e cosa rivendere, vi faccio vedere ovviamente e quindi non vedrete quello dell'usato, insomma, nell'usato non ho comprato nulla a parte all'associazione Ons Mandacaru, tre cosine molto carine, partiamo subito però perché sono tantissime cose da Vincenzo preso, allora, banchetto solito dove mi recco tutte le volte che vado al mercato il sabato, c'erano delle cose spettacolari come al solito ovviamente, non si smentisce mai, ho preso questo abito camicia, guardate che meraviglia, marrone, tipo pitonato, un simil pitonato discreto cioè, discreto, no, non è discreto, cioè non è un pitonato, pitonato vero è un simil pitonato, diciamo, una fantasia che ricorda quello però, sì, no, vabbè, è quasi pitonato è un bellissimo abito che quando l'ho visto lì, cioè, non ho resistito, l'ho subito preso non so se ce n'erano altri o di altre varianti, io mi sono innamorata di questo e non ho potuto fare a meno, ha la sua cinturina che mi preoccupa abbastanza perché non ha non ha i passanti e questo è un male, però magari è una di quelle che, sembra una di quelle che restano abbastanza rigide, almeno a vederla così, perché io ho un problema con queste cinture che mi ricordavo tantissimo quando le utilizzavo tutto il giorno in pratica si aprivano, ce n'ho una di un pantalone griso che ho preso sempre lì bellissimo il pantalone ma è da cambiare la cintura, perché con la cintura lì non, cioè, non resta non resta su, cioè, si apre, io facevo due passi, tac, mi si apriva e spero che questa sembra più resistente però, comunque il vestito è molto bello è fatto a camicia, vestito lungo, tutto abbottonato, col colletto così da portare, secondo me, almeno come lo porto io sarà rigorosamente abbottonato, con magari o una spilla o una collana, una collana dorata adesso devo valutare, è fatto proprio a camicia e è veramente bellissimo, lungo, guardate ve l'ho già fatto vedere, è tutto così, e poi scegliete voi io penso che lo abbottonerò, cioè, lo chiudo fino alla fine però volendo se può fare alcun effetto vedo o non vedo, tenendolo un pochino aperto insomma, giocando un po' con le trasparenze a me piace veramente tantissimo, sia la fantasia che la forma, che tutto quanto, come lunghezza tanto lo vedrete presto in un outfit arriva proprio alla caviglia, almeno a me che sono diciamo molto bassina intanto vi faccio notare la tinta, perché sono molto soddisfatta della tinta che ho fatto era una vita che non mi facevo più una tinta da sola sono contenta, perché si sono scuriti bene i capelli rispetto a come erano prima e li trovo più scuri io amo questo castano scuro adesso e non voglio assolutamente che diventino castano più caldo li voglio così un po' più scuri un castano scuro vero e proprio però purtroppo una tantum, cioè ogni tot però, no, sono contenta se volete informazioni sulla tinta ve le ho già date nell'altro video però, vabbè, vi posso anche dare delle indicazioni in più o fare un tutorial, magari vabbè, non è che servirà un tutorial per applicare la tinta però tante persone non sono capaci di farsela da sola o hanno semplicemente paura di fare qualche danno io ho sempre fatto tutto da sola a parte quando poi mi sono inoltrata nel vero platino 49 euro il costo di questa giacca assegnata della Olly Do che io non ho mai sentito Olly Do, come si dica comunque io ho visto la giacca e mi sono innamorata e forse riuscirò ad abbinarla anche col pantalone che ho preso però non sono sicura che siano bene o che sia la stessa punta o che possa fare un completo effetto tieure comunque la giacca è questa una giacca blazer abbastanza lunga molto ben strutturata da portare appunto o con quel pantalone che adesso vi faccio vedere e sotto c'è anche una camicetta già pronta oppure con qualcos'altro anche con un jeans è molto carina vedete arriva abbastanza lunga ed è un blazer classico questo sicuramente fa da giacca anche diciamo in primavera oppure adesso va bene anche sotto i cappotti per esempio potrei provarla anche con questa chemisier con questo abito camicia però siccome non sono tanto alta non mi piacciono proprio queste proporzioni di lunghezze diverse non mi sta molto bene perché è un po' troppo lunga però se uno fosse alto porta quella aperta però non si sa mai magari starà bene vedremo ve lo scopriremo nel prossimo outfit poi ho preso un giacchino in simil camosho questo ho preso la taglia L perché era forse anche l'unico che c'era e l'ho voluto prendere perché mi piaceva la punta di verde questo verde chiaro è un giacchino così che mi sarebbe stato bene con l'outfit di ieri che ho utilizzato per andare a una festa di compleanno mi urta la luce ma c'è la luce accesa ecco perché mi urta stavo dicendo ma è mai possibile che scusate ok stavo dicendo ma è possibile che faccia questa luce la cosa la stufa no infatti allora aspettate dicevo con l'outfit di ieri che avevo questo abito floreale con dentro un po' di giallo e un po' di verde ci sarebbe stato molto bene però io da brava non l'ho utilizzato a parte che avrei avuto un caldo allucinante perché sono andata a casa la mia amica c'era un caldo allucinante quindi ho fatto bene ad essere leggera però ci sarebbe stato bene lo vedete su instagram se per caso perché non ho pubblicato l'outfit però se vi seguite su instagram l'avete visto sicuro il pantalone con la quale pensavo no non è vero è un marrone diverso però magari un ton sur ton devo proprio valutarlo indossato è un pantalone classico marrone con la riga elegante così col fondo diciamo fatto così con il risvolto mi piace tantissimo questo pantalone a vita alta fatto così marrone e questo qua si abbina con un sacco di cose dalla décolleté al sandalo con la camicetta con i blazer con i maglioni anche un maglione se fosse adesso sotto ovviamente un collant il maglione magari a quello alto dentro cioè si abbina con un sacco di roba è molto carino questo pantalone trovarlo a questa cifra ragazze è un affarone secondo me perché nemmeno i saldi per ora si trovano poi questo lo proviamo insieme perché mi sono fidata di Vincenzo però non dico che fidarsi bene o non fidarsi meglio perché io mi fido di quello che mi dice lui però io mi sono innamorata di questo cappotto che l'ho visto lì appeso e ovviamente i cappotti non costano 4 euro ma costava 12 euro che è comunque una cifra irrisoria e mi sono innamorata solo che erano tutte praticamente L quelle che aveva poi niente ho detto al signore il mio sasso al papà di Vincenzo che è un signore non giovanissimo cioè nel senso non so bene quanti anni poteva avere comunque potrebbe poteva essere mia mamma diceva che era suo papà vabbè e le ho chiesto e mi ha detto che erano tutte L appunto allora le ho detto no allora tirami giù l'altra cosa che c'era lì abbandonata e meno male che l'ho presa perché per un pelo me la soffiavano con una signora me l'ha toccaccinata e dopo gli ho detto a Vincenzo sono andata lì l'ho salutato e gli ho detto belli con i cappotti di peccato che siano tutte L e lui mi fa ma guarda che ti vanno bene prendili perché anche se c'è scritto L vanno portati over e ti vanno e faccio va bene allora mi fido l'ho sonata lì e gli ho detto me lo tiri giù per cortesia è un bellissimo cappotto tartan pesante taglia L però effettivamente a volte sapete che io utilizzo cioè quello che indosso questo di lui è una L quindi boh ho detto proviamo mi fido di Vincenzo vediamo un po' se è fatto bene o male io direi che potrei anche aver fatto bene allora come maniche ci siamo come spalle penso di sì ovviamente con l'outfit di oggi non siamo proprio idonee io cerco sempre degli outfit improbabili per farvi vedere le cose di video ok questo è il cappotto c'è 12 euro ovvio non è un cappotto ma ci sta a ragione bello mi piace a me piace poi non so se a voi piacerà ma non è molto simmetrico no vabbè dai sì ci sta allora questo è il cappotto è costato comunque pochissimo perché è 12 euro e secondo me ragazze 12 euro è il costo di una è un cappotto taglio maschile lungo 12 euro secondo me ragazze è il costo di una di una magliettina basic se andate nei negozi a prezzo pieno forse ho trovato una maglia basic a quella cifra io sono contenta di questo acquisto e li ho visti appunto quest'inverno sicuramente lo utilizzerò anche il prossimo inverno perché comunque il cappotto taglio maschile over andrà di moda andrà di moda anche l'anno prossimo sicuramente perché già l'anno scorso un pochino e poi comunque io lo utilizzerò e già voglio metterlo magari in questo periodo c'è un sacco di cappotti da usare nuovi e sarà meglio che la smetta di comprarli per i tempi duri però facciamo scorta e mi piace mi piace veramente un sacco bello e questo me lo immagino appunto con un jeans o un maxi pull non che io utilizzi spesso questi outfit però per uscire così è molto carino non sono pesantissimi ovviamente non ha la linea dei cappotti che trovo nei negozi tipo quello che vi ho fatto vedere l'altro giorno indossato è tutta un'altra vita è tutta un'altra storia è tutta un altro tessuto però 12 euro c'è che fa è tutta un'altra